17esimo capitolo ragazzi, il centro della cripta che si collega alla cripta del tesoro che abbiamo appena concluso va bene, beh non penso che lo rifiuterebbe una spintarella, non si possono dire queste cose ma le dico lo stesso questa musichetta sotto ragazzi non va bene è una galleria, possiamo uscire di qui aia ciao ragazzi, tranquillo, è di tranquillo cosa diavolo sta succedendo là fuori? non li hai visti? oh no animali oh no siamo intrappolati Cristo e quello cos'è? siamo morti, siamo tutti morti che cos'è? ma della sto fase se non riuscissimo a farcela, voglio solo che tu sappia che non ti sopporto lo stesso vale per me amico, ora andiamo hanno fatto amicizia muoiono? la corda, qua giù stretto forza ma che bastardi che sono ma non sono umani questi non è che ci voleva tanto a capire, l'M41 forza anzi M4, ma il cazzo si chiama non so perché 41 non bisogna cadere nei buchi anche questi devi tartassarli per ucciderli mica muoiono subito oh ma mori oh siamo morti bravo, uccidili te renditi utile bastardissimo per fortuna hanno meno resistenza degli amici di lui però, vabbè mi tocca cambiare arma oh il vecchio amichetto AK-47 però non è tanto efficace quanto l'M4 si è capito quanti cazzo sono? esatto schifoso con i ok non si scherza con Eddie Raja con Eddie Raja no aia se l'è preso non può essere vero merda 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 donna Elena sei inutile ho capito zio però un graffio muoio ok è il momento buono via non mi dire che si rampicano sulla corda c'è 26 ore per muovere sto coso benissimo no ci rincorono via non dobbiamo inciampare via ok gli ho lanciato la bomba ma forse non serviva godo non so non lo so stai bene? si Nate ok non credo che possono superare questo Nate cosa? dove siamo? eh non ne sono in un bunker via via dove? a saperlo dove andare wow atto marino si spiega si spiega lo U-Bod nel rio delle Amazone Nate vieni guarda qui allora lo hanno trovato sono entrati nel nascondiglio e lo hanno ripulito si ma cosa c'entra il monastero in tutto questo? non lo so non ha alcun senso se ora la statua si trova qui oh cavolo ci eravamo proprio sopra scommetto che questo ci porterà in superficie sembra che i nazisti non abbiano pagato l'elettricità maledizione senti se riusciamo a raggiungere il generatore possiamo riattivare la corrente genetà raum chi è? aspetta che stai facendo? che stai facendo? eh però ha funzionato bel lavoro bene andiamo no questa è tua cowboy cosa vuoi dire? Nate io non posso fare quel salto non pensare che ti lasci qui da sola con quelle cose non abbiamo scelta vai riattiva la corrente adesso muore prendermi e poi andremo via da qui ok? adesso sfondano tornerò subito ok? ultime parole famose il capito 17 ragazzi è stato cortissimo e poi ok